Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog! Oggi è domenica, 2 settembre, quindi è iniziato anche settembre ragazzi. Non mi sembra vero, il tempo è volato quest'anno. Mi sembra ieri che era gennaio. Ho delle belle notizie da darvi, alcune che vi piaceranno sicuramente, altre meno, non lo so onestamente, anche perché non so proprio ancora cosa farò oggi. Però mi sono detta. Ho un po' di cose da farli vedere, ho molte cose da raccontarvi e da dirvi. Scusate se vi accolgo con questa faccia, ma ieri sera sono andata a dormire tardissimo perché c'è stata una festa di una mia amica. Sapete che io non sono solita uscire la sera proprio perché per me la sera è sagra. Cioè è quel momento prima dell'andare a dormire in cui puoi fare tante cose, rilassarti. Non mi piace uscire, però vabbè, a volte lo faccio logicamente. Però questo è il risultato poi la mattina dopo. Scusate anche il becchetto, questa volta i capelli hanno deciso di ribellarsi. Sono al computer a montare il primo video Back to School che avrete già visto quando uscirà questo vlog. Che mi piace tantissimo, come sta avvenendo. Spero sarà piaciuto poi anche a voi. Se non l'avete visto lo trovate nella scheda info. Ieri, ragazzi, primo settembre, c'è stato il matrimonio dei Ferragnez. Chi era Ferragne e Fedez. È stata una cosa epica. Allora, tipo il giorno prima hanno fatto una sorta di reunion di prefesta. E tutti gli invitati erano arrivati con questo collereo di Alitalia, tutto imbellettato, scritto Ferragnez. E mi sembrava una trasciata assurda. Però poi il matrimonio in sé è stato troppo cute. È stato studiato nei minimi dettagli. Dopo la cerimonia c'era la cena. In una location, raga, pazzi scadir poco con tutte le luci sopra. Dopo ancora c'era il Luna Park, con tutti i vari giochi, pupazzetti fatti come Chiara, come Fedez. È stato pazzesco. La cerimonia elegantissima. I suoi vestiti, perché Chiara ne ha avuto i ben tre, vi sono piaciuti uno più dell'altro. Con voi ho commentato il tutto su Instagram, quindi seguitemi, mi raccomando, per non perdervi le prossime rubine. Questo era il vestito delle damigelle, guardate. Bellissimo. E vi faccio vedere invece il vestito di Chiara 1. Eccoli qua, guardate che cute, mi è piaciuto tantissimo. Questo invece era il secondo. Tutti Dior. E poi il terzo, che era molto ballerina, molto sì, after party. Guardate soprattutto la location. Questa è dove hanno fatto la cena. Ciao, ciao. Comunque appunto, a parte questo, ieri non c'è stato granché da fare. Quindi questo è un po' il riepilogo. Adesso appunto finisco di editare questo video. Ho già fatto il lettino, ho lavato i pennelli che ho usato ieri, perché ormai è questo vizio. Poi devo mettere a posto la camera, come sempre. Ogni weekend io mi dedico a questo, perché durante la settimana prendo, butto le cose un po' a random. Quindi devo mettere un pochino a posto. E poi volevo anche parlarvi di queste, ragazzi, nuovo a questo, che ancora non vi ho commentato. Ho finalmente ceduto e vi dico soltanto che ho fatto bene. Circa due e mezza dopo ho finito di fare tutto. La copertina, editare, l'ho messo a caricare. È venuta anche carina la copertina, sono abbastanza soddisfatta. Comunque, a parte questo, adesso vi faccio vedere direttamente i prodotti che mi sono arrivati da Octoli. Se no poi dopo mi scordo. Sono due cose di Mac. Una è questo, Lip Real Foundation. Penso proprio sia una nuova uscita, perché non l'avevo mai visto. A me in realtà è arrivata la colorazione violet. Però di questi ci sono anche i colori dei fondotinta normali. Questo è fighissimo perché è cangiante. E si può usare come base, tipo per l'illuminante, o per dare un effetto glowy alla pelle. Vedete, è bianco, però ha dei riflessi viola. Tra l'altro è l'una e mezza, ho un certo languorus, quindi dobbiamo anche andare a prepararci il pranzetto. Eccolo qui, super luminoso. L'altro prodotto invece è questo qui, il Deathly Shadow Liquid. Che è appunto un ombretto liquido. Io ho scelto questo color bronzo dorato, che si chiama Blinking Brilliant. Io pensavo fosse più intenso, più colorato, tipo quelli di stila. In realtà è molto più brillantini che altro, vi faccio vedere. Cioè, quando riflette la luce dà un bel effetto pieno. Però alla fine, se lo vedete così, sono tutti brillantini. Però l'effetto sulla palpebra è pazzesco. Dopo un po', logicamente, questo si asciuga e vi rimane lì. Troppo cute, magari presto ve lo faccio vedere all'azione. Finito i miei impegni da youtuber scatenata, anche se in teoria no. Almeno questo per lunedì lo abbiamo. Adesso mi catapulto giù, perché devo dire che ho abbastanza famina. Quindi vediamo cosa possiamo mangiare, mangiare. Tu che stai facendo? Spiedini di totano. A me non piace il pesce, a parte il sushi. Quindi mi farò la mia classica insalatona. Ecco l'insalata, pomodolini, cetriolo, pollo. E poi vi faccio vedere, ah, i semini. E poi ci ho messo, questo dressing per l'insalata della Conad. Questo con le erbette, io ho usato quello di Caesar. Sono buonissimi. Ok, finalmente hanno messo la quarta stagione di Good Witch su Netflix. Quindi sto recuperando questo frame fantastico. Nel mentre sto riordinando, e mi arrivano i messaggi, e stavo rimettendo a posto alcuni dei miei Funko. Sapete che ho la collezione di Funko Pop, che sono quelle statuette lì da collezione. Poco tempo fa ho comprato questa da eBay, un rivenditore privato americano. Che fa parte della Disney Treasure, però è bollinata a Topic. E essendo una cosa di Ariel, logicamente la volevo prendere, quindi l'ho presa. Ma non pensavo mi sarebbe arrivato con lo scrigno addirittura. Ve lo faccio vedere, guardate che carino. Insomma era tutto chiuso bene. E il fanco si chiama Finding Your Voice. Ed è questo. È tipo giganterrimo. Troppo, troppo cute. Il problema è che non ho più spazio. Vi faccio vedere qui è dove tengo i pop, o almeno gli ultimi arrivati. Questa dovrei metterla qui, ma comunque uscirebbe fuori. Quindi ho pura che poi casca, e non so dove metterla. Quindi probabilmente per questo periodo la lascerò dentro lo scrigno da qualche parte. E altra cosa, per i collezionisti di Funko, ho trovato questa applicazione che si chiama Stashpedia. Vi faccio vedere. Cioè non è sponsorizzato nulla, è semplicemente per darvi un po' delle indication. Dove praticamente potete, alla prima di tutto, potete andarmi a seguire. E poi potete mettere tutti i vostri fanco. Io praticamente l'ho messo con le categorie, però potete, vedete, dividerle anche con altri tipi. Vedete, qui abbiamo tutti quelli di The Andred, American Horror Story. Così non comprate doppioni. E tenete sempre d'occhio la vostra collection. Non fate caso ai prezzi che sono riportati qua, perché sono irreali. Quella è l'unica cosa. Però almeno tenete il conto di quanti sono. E la cosa carina è che ci potete fare anche una wishlist e mettere tutti quelli che vorreste prendere. E cosa ancora più carina è che quando cercate un pop, come vedete c'è anche la funzione codice a barre. Vi faccio vedere come funziona. Prendiamo ad esempio questo qua sotto, lo scansionate con l'application e vi trova direttamente il fanco. Quindi è una figata pazzesca e poi da lì lo mettete nella collezione. Quindi collezionisti, ringraziatemi. Ringraziatemi. Io l'ho scoperta grazie a Elisa del canale Funko Pop Italian Adventure, che poi in realtà mi aiuta più volte di quanto pensi. Comunque, adesso continuerò a mettere a posto tutto il mio bordello, che sì, è ancora lì dallo scorso vlog. Non l'ho ancora messo a posto. Molto probabilmente, come mio solito, il pomeriggio della domenica lo dedico al cinema. Io praticamente vado sempre al The Space e hanno creato questa carta che viene sui 16€ al mese. In realtà io ho fatto l'abbonamento prima di fine agosto, quindi mi hanno abbonato due mesi gratis. Però comunque verrebbe 15,90€ al mese. Ed è una tessera dove potete andare al cinema quante volte volete, in una giornata, in una settimana, in un mese, a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno. Quindi è tipo troppo, troppo, troppo figo. Il The Space ha anche un'altra carta, che è l'Easy Card, dove praticamente potete prendere i biglietti anche online e li pagate 5,50€ mi pare. Se facciamo dei brevi calcoli, 5,50€ per 3, arriviamo al totale della tessera. Visto che io vado più di tre volte al mese al cinema, mi è convenuto fare quest'altro tipo, che è illimitata ed è fighissimo. Quindi cerco sempre, quando ho tempo, di sfruttarla e di andare al cinema. Quindi necessito di un nuovo film, anche perché ce ne sono tantissimi che voglio vedere al cinema in questo periodo, quindi il tempo stringe. E oggi mi sa che vado a vedermi Shark, il primo squalo. Sono un po' terrorizzata perché ho una leggera fobia degli squali, però si può fare, nel senso è un film. Sono molto, 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 molto curiosa perché c'è anche quell'attore di Fast and Furious che mi piace molto, molto assai. Quindi probabilmente andrò a vedere quello. Comunque fateci un pensierino su questa carta del The Space se avete questo cinema vicino. Perché per tutti gli amanti del cinema è una cosa stramica e per comoda. L'unica cosa è che è nominativa, quindi non potete scambiarla con gli altri. Però furbata, se me beccano me la tolgono. Voi potete andare a prendere il biglietto per magari qualcun altro che poi andrà a vedere il film, nel caso. Detto ciò, ma io che rispondo al telefono sono qua, continuano a tartassarmi. Quindi finisco di fare queste cose, poi vediamo quando c'è questo film al cinema. E vi devo parlare anche di una cosa importante, cioè una decisione che ho preso, che in realtà vi avevo già mezzo accennato, di cui voglio parlare con voi. Ok, sto andando verso la sala. Mi sono presa i miei soliti nachos. Forse qui si vedono. E adesso andiamo. Shark, il primo squalo. Mi sto un po' facendo sotto, ma ce la posso fare. Ok, allora sono appena, 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 appena uscita dal cinema. Allora, in realtà ho letto un sacco di recensioni che fosse brutto, una cavolata, eccetera, eccetera, eccetera. Piccola premessa, io ho sempre visto i film, anche se ho paura, come le merde, passatemi il termine, di queste cose squali piragna, Abbiamo sempre visto Sharknado, che è quella una cavolata pazzesca, Lo Squalo, Piragna, Piragna 3D e tutti i vari sequel, insomma. Ma in realtà vi dico che forse, cioè forse, questo è il film meglio riuscito. Allora, prima di tutto, gli attori. Lui, appunto, io me lo ricordavo in Fast and Furious, poi non mi ricordo se ho visto altri film. Ma è un figo pazzesco, regà. Io stavo là, c'è stata una scena, vabbè, non penso sia uno spoiler. Con uno così ce lo devi mettere in una scena del genere. A petto nudo, tutto così, appena uscito dalla doccia, e tu sei là, tipo, yes. Solo questa scena vale il film. Vi dico anche come si chiama l'attore, perché io non ero certa del nome. Lui si chiama Jason Statham, penso si pronunci così. Io conosco la moglie, che è una modella, che è Rosie Huntington, che è pazzesca, regà, la dovete vedere. Hanno pure un figlio insieme, che non si sa com'è perché non si è mai visto. Però sono pazzeschi. Questa è lei, questo è lui. Vi posso assicurare uno più figo dell'altro. Intanto io sto nel parcheggio del cinema, la gente passa e mi guarda male. Ormai è abitudine. Quindi appunto vi dico, il film mi è piaciuto tanto. Il mio solito voto, allora, io direi che qui siamo su un'ottima e mezzo. Ha fatto benissimo. Proprio anche le scene hanno senso. E fanno anche senso. Però non è troppo splat. Anzi, devo dire che è giusto una, due scene. Muore qualcuno, sì. L'unica pecca seria è che stavo vicino a un bambino da una parte e tra l'altra avevo una bambina. Poi non so perché i genitori portano i bambini a vedere questo genere di film, però ok. Non fa neanche tanto paura. Però, oddio, per i bambini non lo so. Comunque, vabbè, io ero circolata da ragazzini. Quindi stavano sempre a chiacchierare e a urlare e a dire e a fare. Quindi è stato un po' quello che mi ha disturbata. Adesso io me ne vado a casa. Sperando si sia caricato il video, perché l'ho messo a caricare. Comunque, visto che so che qualcuno mi chiederà di nuovo. Il ama perché va al cinema da sola? Mi piace di più come esperienza andare da sola. Perché così non mi disturba nessuno. Mi posso godere i film. Però ci sono quei film, tipo comici, da ridere. Che vado sempre in compagnia di qualcuno. Perché se no sto lì e rido, tipo, sembro una scema. Vi dico, per quante volte vengo al cinema? Ci sono due o tre persone che lavorano qui che ormai mi conoscono. Tipo, oggi ho beccato la ragazza. Al banco del cibo. Mi guarda e mi fa, ciao, è il solito? Cioè, vi dico solo questo. Se avete visto questo film, io voglio sapere qui sotto nei commenti. È entrata una zanzara. Cosa ve ne pare? Se gli attori vi sono piaciuti. Anche lei, l'attrice con l'asiatica. Bellissima, raga. Bellissima. E molto, molto, molto brava. Quindi voglio sapere le vostre opinioni. Adesso io torno a casa e vi faccio un altro discorsetto sulla cosa che vi dicevo prima. Che finalmente ho preso una decisione. Madonna, ho questo brufolo che mi fa malissimo. Eccoci qua, postazione chiacchierata. Non fate caso al bordello che c'è in quel lato del letto. Ci sono i panni stirati che devo mettere a posto. Comunque, ritengo scherzando. Io sono tornata già da un po'. Sono le 8 e 21. Guardate che bello il mio sfondo di Jon Snow. Mi manca. Ok, sto rovolando questo mio lato nerd che ogni volta esce. Volevo appunto parlarvi della mia decision. Che però vi avevo già accenato qualche tempo fa. È una cosa comunque abbastanza importante. Sia come costo, sia come impatto. Sapete che io ho perso tanti chili da un anno e mezzo a questa parte. Quindi alcune parti del mio corpo sono più morbide, più rilassate di altre. Vi ho sempre detto che gli interventi di ricostruzione, togliere pelle in eccesso eccetera, non li avrei fatti. Almeno al momento non ne sento il bisogno. Perché comunque mi sono ripresa molto molto bene. Dato che comunque sono giovane. Non ho una pelle stra elastica, anzi. Però devo dire che è andato tutto bene. Comunque a parte questo appunto la cosa che più di tutte mi dà fastidio. Perché comunque essendo donna è una delle prime cose che almeno io vado a notare. Non lo faccio per nessun altro. È una cosa che faccio per me, per sentirmi meglio eccetera. È il seno. Io non ho mai avuto un seno sodo. Cioè neanche prima che era riempito. Figuriamoci adesso. Credo di aver perso almeno una o due taglie. Perché fondamentalmente il seno è una delle prime parti dove la ciccia si va a depositare. Quindi potete immaginare. Avendone persi i 50, quanta ciccia se n'è andata. Prima di perdere peso non ho mai pensato a un'ipotetica operazione al seno. Non ne sentivo la necessità, il bisogno. Dico tanto tempo che poi prima o poi allatterò se rismoscia tutto. Però adesso è quasi insostenibile. È tutto l'anno che ci penso. Cioè mi è pazzicata questa idea in testa dicembre 2017. E da lì ci ho pensato, ci ho pensato, ci ho pensato. E ho detto basta. È una cosa che devo fare perché se no non sto proprio in pace. Quindi brulo di tamburi. E la cosa che devo dirvi è che penso gennaio-febbraio dell'anno prossimo mi opererò al seno. Io devo fare una mastoplastica e una mastopessi. Che sono due cose diverse. Allora non ho ancora fatto la visita però parlando con Francesca Dorio. Che è la consulente più brava del mondo. Abbiamo già appattuito questa cosa perché ho un seno di una forma particolare. Una è più grande, una è più piccolo. E diciamo che non sono proprio al loro posto. Ecco. Diciamo che dovrebbero stare qui e sono qui. Quindi insomma questo per farvi un po', visto che non posso mostrarle proprio direttamente, più o meno si è capito. Non rifarò assolutamente una taglia giganterrima perché a me non piace il seno grande. Quindi penso farò una terza, un 350, non lo so come vengono definite. Bisogna che non ho proprio un fisico mingherlino. Deve essere comunque sempre giusta. Quindi penso più o meno una cosa del genere. Mi piacerebbe la forma tonda, quella che di profilo si vede bella così. E non quella a goccia che in realtà è un po' più naturale. Io adoro le cose finte. Però non so se per il mio tipo di seno andrà effettivamente bene. Va sempre tutto pattuito. Ripeto, devo ancora fare la visita dal chirurgo. Più o meno ho già due o tre nomi di chirurghi che mi piacerebbe poter sentire. Quindi fondamentalmente questo è. Tra l'altro se avete fatto questo tipo di operazione fatemi sapere. Perché appunto è diversa da una mastoplastica normale. Poi dipende se è sopra o sotto muscolo. Io me la faccio mettere logicamente sotto in modo da poter allattare. Non sono sicura se sia sopra o sotto quella in cui puoi allattare. Ma penso sotto muscolo, vero? Comunque in ogni caso si può fare in questi due modi. E poi ci sta la cicatrice sotto il seno o sul capezzolo. Visto che io devo fare anche la mastopassi, la cicatrice sarà T. Quindi sotto il seno e verticale verso il capezzolo. In modo che poi possono alzare il tutto. Quindi fatemi sapere se qualcuno di voi ha fatto questo tipo di intervento. Perché appunto è diverso dalla mastoplastica normale. Perché lì cicatrice, inserisci la protesi, richiudi. E si può dire che è più semplice in qualche modo, no? Quindi questa è appunto la grande notizia. Io sono euforica, non vedo l'ora. Non la faccio a fine di quest'anno perché uno, devo partire a novembre. Due, se la facessi a ottobre, poi non so quanto è la ripresa. E poi magari mi dà fastidio per le vacanze di dicembre. Non lo so. Cioè poi può essere qualsiasi cosa. Alla fine sento bene, le cose vanno bene, la ripresa è poca. E la faccio a ottobre, così va tutto bene. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Stato di fatto che entro fine quest'anno, inizio dell'anno prossimo, avrò due belle ciliegine. Volevo rendervi partecipi di questa mia decisione come di tutte le altre della mia vita. Mi fa piacere condividere le mie esperienze passate, presenti e future. Così che voi facciate lo stesso e ci scambiamo informazioni ed è bello. Adesso c'ho un leggero langurus. Quindi direi che è ora di andare giù. Cena con Tomino, fiori d'acqua e paperissima spint. Se rivediamo... Buè, buona gabbaglia. Se rivediamo le stesse cose da vent'anni. Ecco il cane rompino. Mi stavo anche quasi scordando di farvi vedere gli ultimi arrivi da Shein. Tra cui c'è questo vestito verde. Che mi avete visto usare tantissimo nelle vacanze estive. Mi metto una foto qua sullo schermo di come calza addosso. Bellissimo. Tant'è che io l'ho comprato di mia iniziativa anche in nero. Vabbè, faccio un attimo qui e vi faccio vedere gli altri. Allora, questo è un vestitino fatto così. Io adò pazza per questi pompon. È molto carino come copricostumino o vestitino leggero. Poi abbiamo quest'altro che è nero ed è troppo carino. Solo che ho sbagliato taglia. Avrei dovuto prendere un L perché non ha un tessuto elastico. Quindi è un po' difficile. Vi metto le foto come sempre. Questo qui è un altro di quelli che mi piace tanto, 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 tanto. Sempre nero. È praticamente stretto in vita. E sotto a tutte valse che formano la conna. Anche di questo ho preso un M. In realtà avrei dovuto prendere un L. Perché vesti un pochino, non lo so, stretto. Dipende. Se vi piacciono le cose aderenti, prendete la vostra taglia. Se non siete proprio un tipo aderente tipo me, prendete una taglia in più. Qui nel frattempo sono arrivata al quarto episodio. Mi piace tantissimo questa serie. Non fatevi ingannare da Witch. Perché è un modo di presentare la magia nelle serie tv diverse dal solito. È bellissima la storia. Nel mentre si sono fatte quasi le undici. Io tra l'altro non posso andare a dormire troppo troppo tardi. Perché domani mattina devo sviarmi presto. Che ho il dentista. Nel frattempo ho approfittato e ho messo lo smalto. Io sono esattamente tipo quattro mesi che non metto nulla sulle unghie. Nulla di colorato. Ho sempre messo soltanto lo smalto trasparente. Infatti le mie unghie, dopo aver portato il gel per penso più di 6-7 anni, si sono riprese completamente. Non potete capire. Io non ho messo delle unghie particolarmente forti già prima del gel. Infatti wow, wow, wow. Ci ho messo questo smalto nero qua di Kiko. Classico, classico. Vorrei proprio si percepisse dalla ripresa quanto si sono rafforzate. Io prima facevo così, si spezzavano tipo. Invece adesso sono fortissime. Ne approfitto anche per darvi la buonanotte. Visto che in questo vlog ne approfitto come sempre chiacchiero, 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 chiacchiero. Ma voi dite che vi piace, quindi ottimo direi. Due pezzoni con una fava. Detto ciò, aspetto di leggere i vostri commentini. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. Iscrivetevi se ancora non lo siete, che tra poco torno attiva. 24 ore su 24, eh raga. Io contate che in Accademia ho settimana prossima e poi ho il 18 e 19 di settembre i due esami finali. Poi non so che cosa farò della mia vita, ma ne parleremo in un prossimo vlog magari. Detto ciò, bacio e ci vediamo presto. Ciao. Ciao.